buongiorno stamattina mi avete visto preparare il pancake adesso mi sono appena fatta una maschera in realtà non so se si vede forse si si vede solo i semini è una languria della make up revolution quindi l'ho messa su tra poco la tolgo e si è fatta l'ora di pranzo adesso io figata questa cosa che mi segue dovrei mettermi appunto qui a cucinare perché daniele andati in palestra quindi volevo far trovare qualcosa di pronto solo che ormai è un po tardi perché in realtà per colpa della riri ci siamo abbiamo fatto una nottata un po particolare alla fine io per le cinque me ne sono venuta di qua in sala come al solito per far dormire daniele me ne sono appunto riandata in camera e mi sono fatta le un'oretta e mezza di sonno quindi ora che ho carburato perché il mio problema è questo che poi se poi non dormo la notte poi vado di là in camera cioè poi mi ci metto un sacco per riprendermi e quindi ho fatto questa maschera un attimino per per riprendermi un attimo adesso mi vado anche a truccare a preparare nel frattempo volevo cucinare in modo che daniele vabbè se lo mangia scaldato ma lui preferisce perché comunque mangia alle due e mezza quindi attendere il momento che lui arrivi per farli trovare esattamente pronto è un po difficile cioè dovrei mangiare io alle due e mezza ma non mi sembra il caso quindi mi metto mi metto fare un po qualche cosa adesso vediamo che cosa ok vediamo che cosa ho nel frigorifero per fare qualcosa di veloce o faccio gli gnocchi con il sugo oppure posso fare i nostri sprezzo questi qua agli spinaci che ci mettono pochissimo a cuocere quindi io posso mangiare anche velocemente con che cosa ho sia pancetta dolce che quella fumicata dai lo faccio con la pancetta dolce e la panna così sono buoni anche riscaldati vado a togliermi la maschera e mi metto a cucinare tolta la maschera e idratata la il viso quindi volevo farmi un piccolo trucco e come vi avevo detto nell'ultimo blog mi era arrivata questa box da shane e quindi volevo provare a fare ricreare un make up con con le loro cosine e tanto principalmente è ombretto eccetera eccetera quindi direi che la base me la faccio subito magari utilizzo sempre un loro prodotto utilizzo anche se è un po più scurino questo questo fondotinta che devo terminare e siccome sono in casa non devo fare niente di che mi lascio il mio fondotinta di clio il mio preferito per l'occasione un po più decenti e vado a utilizzare a finire questi qua quindi questo qua di essence all day 16 ore nella colorazione 15 soft cream bagno una spugnetta e arrivo mi sono messa anche le due mollettine vado a mettere appunto il fondotinta sulla spugnetta bagnata vi dico la verità io ho sempre avuto problemi con il fondotinta perché praticamente quando lo utilizzavo da asciutto quindi senza la spugnetta bagnata si vedeva tantissimo sulla mia faccia perché ho una grana molto spessa in questa zona questa zona è secca quindi fondotinta troppo secchi si vedevano tanto quelli grassi mi si ingrassava tanto la pelle quindi la mia soluzione è stata sempre dove dove pensi di andare pensavo fosse più comodo questa cosa che si gira ma forse no vabbè ok aspettate lo tolgo forse farlo girare adesso che mi uso le mani e gesticole forse è meglio evitare quindi ho trovato che la mia soluzione giusta per avere un effetto un po più naturale ma comunque coprire le disco le discromie perché comunque ho un sacco di capillari rotti è proprio applicarlo con la spugnetta bagnata ma poi strizzata quasi come se fosse asciutta e devo dire top una volta tipo magari quando la bagnavo la bagnavo con lo spruzzino ecco mi avevano citofonato quindi non so neanche più cosa stavo dicendo con casi forse una volta prima la bagnavo però quello spruzzino cioè tipo facevo questa cosa così non e non mi piaceva l'effetto effettivamente è un effetto completamente diverso come sapete io cerco di cancellare un po all'interno delle sopracciglia questa parte qua quindi la copro un po col fondotinta perché tanto appena partorisco vado a togliermela con il laser perché non si può più vedere se sopracciglia quindi niente adesso vado a stenderlo c'è anche la colorazione di questo fondotinta è leggermente più aranciata rispetto al mio ma vi ripeto sono in casa non devo neanche uscire quindi va bene così era solo per sentirmi io meglio più carina e volevo provare i nuovi prodotti quindi per questo ok dopo aver messo il fondotinta vado a mettere una matita sulle sopracciglia vario tantissimo comunque tendo ad alzarla un attimino così almeno ho già la forma e poi utilizzo questa matita qui questo questa matita quali neve cosmetics che ne avevo preso l'avevo messo da parte e ho finito una che utilizzavo e sto utilizzando questa vado semplicemente a ritoccare il colore grigio delle mie sopracciglia che si stanno sbiadendo vedete vado a fare tipo dei piccoli tic 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 ma tanto è talmente scuro il colore c'è veramente sono proprio brutte le mie sopracciglia lo so non ci posso fare niente ho coperto un po col col fondotinta perché è lì la punta verso il basso mi incupisce ancora di più che è quella parte che dovrei togliere diciamo con il laser che è quella che mi è più fastidio più noia questa parte qua che si vede dopo andrò a metterci un po di correttore si vede un pochino di meno lasciamo stare ve l'avevo già spiegato la storia delle sopracciglia comunque finisco di fare dopo la base andiamo a fare il makeup occhi proviamo questa palettina la trovo molto molto bella infatti mia mamma già me la voleva rubare ieri che gliel'ho fatta vedere e niente vedo che c'è un ombretto in crema che è il primo quindi io quasi quasi lo utilizzo come base quindi andiamo a metterlo è tipo un vaniglia color vaniglia così ad applicare con le dita perché toglierlo dalle pieghette voglio metterlo solo nella prima parte sicuramente utilizzerò questo colore brillante ma andrò prima a fare una specie di base con quei due colori diciamo più caldi questo e questo qua che è uno un po più caldo un po più freddo vediamo un attimo mettiamo prima prima quello un po freddo lo vado a mettere qua a scrivere scrivono tantissimo sono leggermente polverosi però infatti mi piace leggermente più caldo come come colore di transizione quindi vado a prendere l'altro colore quello più caldo e lo vado applicare sempre partendo da questa parte qua che tanto poi andrò a togliere un po col correttore e poi vado a portarlo verso qua sono veramente dei colori basici quindi in realtà nulla di estremamente pazzesco ecco vado a utilizzare invece il colore toffee questo qua che è un marrone un po più scurino ma non eccessivamente sbatto perché mi sanno è fatta ci sono un sacco pigmentati vedete e vado a metterlo come se stessi creando tipo un eyeliner questa zona qua dopo lo andiamo a sfumare vado a prendere un pennellino un po più piccolino così riesco a farlo meglio questa parte di qua e vado a fare tipo questa appunto questa sorta di eyeliner leggermente sfumata prendo un pennello per sfumatura e vado a sfumare questa zona qua finale non so se applicarlo con le dita o con un pennello provo con un occhio col pennello e vado a metterlo in questa zona qua ragazze stupendo bellissimo va benissimo anche col pennello anzi proviamo a fare una cosa pennello ho spruzzato un po di acqua di aven e guardate come brilla molto di più bello vado a picchiettare e non a tirare così almeno rimane più brillante non so se riuscite a vedere quanto è brillante senza utilizzare le dita sicuramente quelle dita sarebbe ancora un effetto più intenso vado ad applicare un po con le dita quindi lo prendo e vado a metterlo solo nella parte che avvicina l'attaccatura delle ciglia qua ok perfetto ma lo vedo troppo chiaro quindi vado a prendere un colore un po più scuro quindi dark chocolate e vado a rintensificare la parte devo messo prima toffi quindi vado a metterlo qua ha sporcato un pochettino quindi io direi di utilizzare un correttore per pulire questa zona qua sotto alle occhiaie utilizzo prima un correttore aranciato questo qua è sempre di she glam ed è la colorazione honey quindi metto prima un po di correttore aranciato qui ok ha suonato il postino adesso mi sfumo questo correttore se no mi si attacca e c'è una raccomandata per me spero che non sia una multa e devo scendere ma tanto mi devo mettere anche i pantaloni quindi aspetta un secondo tanto ha citofonato poi a dieci persone ok comunque ha sfumato il correttore aranciato dopo andiamo a mettere quello un po più chiaro e luminoso vado un attimo a prendere la raccomandata allora non era una multa ma era successo non so se ve l'avevo detto magari ve lo spiego ma daniele era stato aggredito al lavoro da una persona che era andata al bar a bere e aveva fatto sport o denuncia e quindi è arrivata la comunicazione diciamo che non come si può dire non hanno risolto niente ecco in sostanza perché comunque non sapevano questa persona è tornata nel suo paese quindi non sapevano anche chi fosse eccetera eccetera era scappata bello questo boccano qui è naturale vabbè comunque adesso è tornato a casa me lo sono beccato mentre firmavo e perché la tipa della palestra comunque non c'era nessuno e quindi è tornato quindi non poteva fare il corso ha applicato il correttore questo qua di clio la colorazione 4 che è quella più chiara e prima la vado un attimo a picchiettare così così tolgo l'accesso qua in fondo ok però in realtà utilizzo sempre un pannello un po più largo oggi non è giornata e non trovo le cose dunque come questo qua e lo vado un attimo a picchiettare a stenderlo così perché è molto corposo come correttore da sembra quasi un fondotinta infatti forse mi ho messo anche troppo nel parlare ne metto veramente lo applico sempre pochissimo perché forse un po troppo troppo denso e niente allora ho delle occhiali pazzesche molto molto bene amen danni niente se sentite danni sottofondo sta lavorando metto comunque un blush di shiglem questo qua è uno molto molto chiaro come potete vedere così solitamente lo metto anche direttamente sul pennello e poi vado a sfumarlo ma essendo chiaro è molto modulabile quindi non rischio di fare patacconi ok e lo faccio prima di mettere la cipria perché almeno riesco ad allungare questa zona qua e la fisso senza fare dopo il pastore ok cipria allora cipria io ne ho versato un po di qua dentro non è questa la cipria la cipria l'ho buttata era lo scatolone grande di polvere di riso e quindi sto usando quello ma l'ho messo in una scatolina più piccola proprio per comodità quindi era una polvere di riso di un brand famoso che in questo momento non viene io vado a utilizzarla con un triangolino lo metto un po sulla mano quindi tolgo l'eccesso ok e poi vado a fissare in questo modo così non mi va nelle pieghe ho trovato questo metodo e devo dire è molto più efficace quindi prendo sempre un po di cipria la picchietto sul sul dorso della mano e poi la picchietto qua ok non viene un po arrabbiato mi sa danni sei arrabbiato per la palestra direi di sì ottimo ok non sfogarla su di me grazie ero già pronte a prendere pugni qualcuno ogni tanto quando torna a casa mi dice amore ho rotto un naso a qualcuno bene grazie per avermelo detto spero non ti accada lo stesso per lo meno qualcuno te le darà talmente tanto e che anche tu tornerai a casa con il naso rotto comunque vado a prendere un pennellino sempre sottile quello che ho utilizzato per sfumare la parte un po più scura e veramente pochissimo prodotto vado ad applicarlo sotto quindi vado a fare un po di colore qua sotto vedete prendo questo qua con la punta sottile perché mi viene meglio io non ho un occhio molto grande e con la vecchiaia mi si stanno formando un sacco di rughe in questa zona quindi devo in realtà stendere un sacco l'occhio ma in realtà se no mi entra tutto nelle pieghe quindi questo è quello che faccio pennellino quello sporco diciamo della parte brillante vado a metterlo in centro se mi sono dimenticata che avevo il blush già questo qui e non quell'altro però mi sembra che questo sia un po scurino proviamolo dai ad applicare un pochino sopra vediamo un po com'è è un po più scurino però volevo provarlo a vedere sono proprio stupida ma posso dirlo che mi dimentico tutto e ormai che me lo sono messo qua davanti vabbè dai ci sta come colore pensavo peggio pensavo fosse molto più scuro invece vi ripeto modulabile quindi tranquillamente stratificabile ok blush messo tra l'altro questo è l'unica cosa che è buono perché sa di dolce caramella e non di cioccolato perché un po il cioccolato mi sta dando noia ok volevo andare a mettere l'eyeliner però sinceramente no lo lascio così che è un po più allungato sempre nella parte un po finale sfumato quindi senza niente eyeliner vado a finire di fare vediamo che trucchi avevamo avevamo un burro di cacao che vabbè non utilizzo perché non ha senso ma abbiamo solo i set di labbra che ci mancano quindi mancano solo le labbra allora finisco di fare la base allora piego le ciglia e vado ad applicare il mascara di clio questo qua odio il 370 flip ho una recensione non positiva da fare nel senso che secondo me lascia veramente troppo 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 prodotto infatti mi sono tenuta un altro mascara per andare poi a ripulire il questo mascara qui e ce l'ho aperto da 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 un pochino pensavo che con il tempo pure di utilizzare si asciugasse invece non è così quindi io lo utilizzo in combo con con questo mascara qualcosa in modo da poter togliere l'eccesso cioè non so se riuscite a vedere rilascia veramente tanto tanto tantissimo prodotto e quindi lo devo andare a pulire risultato con il mascara senza le liner a me non dispiace vado a mettere un po di terra e utilizzo sempre questa di shiglam questi trucchi quelli ho comprati tutti io cioè nel senso non mi li ha inviati sheen perché sinceramente guardando delle recensioni sul su internet su tiktok me ne parlano veramente bene sinceramente non mi sto trovando male quindi ho voluto provare sia i correttori che i blush che la terra eccetera eccetera e non me non dispiace questa è leggermente calda ma non troppo ed è la sun star che per il mio incarnato in realtà va più che bene quindi devo solo andarla un po a sfumare questo è di makeup revolution il coperchio ormai è andato lo applico un po sul naso un po qua un po qua e poi con un pennellino questo qui lo vado a mettere un po qui che non ho ecco una cosa che ho visto che nella palette non c'è un colore chiaro che non sia cremoso quindi questa parte qua non riuscite a farla cavoli ok così applicarlo uno adesso e magari uno anche dopo mangiato io direi di utilizzare via di mezzo quindi quella un po più rosato quindi applico prima la matita e poi il gloss questa è la colorazione ok con un dito vado leggermente a sfumare l'interno così tra l'altro non è per niente scura e carina vado ad applicare il gloss che invece è un po più rosato quindi ecco questo sono un sacco di cioccolato vino non è malvagio quindi il makeup in realtà l'ho finito che ne dite come come è venuto poteva venire meglio assolutamente se non avessi avuto un miliardi di distrazioni però vabbè dai tanto vi ripeto non devo andare da nessuna parte era solo per provare la palette che tra l'altro è super promossa e anche i rossettini che ha i gloss con la matita molto molto carina adesso vado a preparare da mangiare già che ci sono visto che se Daniele si è messo a far la doccia ed è tornato prima preparo la pasta subito e vi porto di là con me forse magari si vede meglio forse magari si vede meglio di qua quanto è il luminoso l'ombretto comunque ho messo a soffriggere la pancetta con un po' di cipolla e adesso ci aggiungerò la panna appena finisce di soffriggere un pizzico di pepe e va bene così e ho messo a cuocere l'espresso così sono pronti in due minuti e mangiamo anche perché sono le due adesso quindi si è fatto abbastanza tardi ma in realtà in due minuti è pronto Daniele ha finito di farsi la doccia credo si stia tagliando le unghie che Daniele si taglia le unghie praticamente ogni 10 secondi non so cioè sembra Wolverine e si perde più tempo eh il fratello di Wolverine si amore cioè praticamente tutti i giorni lui sei l'Italia si costitura le mani per carità ottimo eh però mi fa ridere che veramente ci perde due ore a tagliarsi le unghie va bene finisco di far poco e mi sa che sta spazzando un piatto più veloce della storia Daniele è andato al lavoro e sono le tre e mezza stavo guardando uomini e donne però sinceramente non amo molto uomini e donne perché non lo seguo bene quindi ogni tanto mi perdo non capisco mai le coppie perché comunque non sono una persona che guarda uomini e donne perché Daniele non ama uomini e donne quindi gli dà fastidio le persone che gridano e non me lo facevo mai vedere anche quando lavoravo pur potendo vederlo appunto a casa quindi adesso non c'è che esce comunque prima più che altro perché prima andava più tardi a lavorare comunque volevo raccontarvi quello che era successo perché adesso stavo mettendo via la raccomandata che è arrivata oggi volevo raccontarvi cosa era successo una volta al lavoro praticamente quest'estate mi sono messa leggermente più comoda comunque verso giugno cosa è successo o forse era maggio se non mi ricordo comunque circa l'anno scorso e mi è tornato Daniele a casa con una botta enorme qua sulla testa che sembrava il gobo di Notre Dame se potessi mettervi la foto di Daniele e il gobo di Notre Dame a fianco per come mi era tornato a casa mi faceva impressione cioè praticamente cosa gli aveva tirato una botta in testa questo qua non si è capito praticamente era successo che quando lavorava nel vecchio locale nel secret bar quello non so se chi mi segue su instagram ogni tanto condivido qualche cosa prima lavorava all'interno di un bar che per accedere comunque servivano conoscenze cioè nel senso non è un bar qualunque dove tu puoi andare con i tuoi amici ma dovevi per forza entrare tramite diciamo prenotazione e per farlo dovevi avere delle conoscenze quindi questa persona che è entrata all'interno del bar conosceva un amico era insieme a una persona che comunque era già venuto al locale che era stato mandato da un amico loro quindi è come se io dicessi a una mia amica guarda ti faccio entrare e lei porta un'altra amica capito? però io magari non ci vado e quindi è stata una persona che comunque non sapevano chi fosse ecco fatto sta che questa persona faceva un po' di casino non si stava comportando bene eccetera eccetera e allora dopo di verse lamentere da parte dei colleghi Daniela ha deciso di andare e dire appunto se per favore poteva uscire dal locale perché il comportamento non era non era corretto non devi dar fastidio non devi comportarti in maniera esuberante cioè devi stare tranquillo no non è un bar di più della piazza dove puoi gridare fare quello che vuoi e questo si è girato male ha deciso che doveva picchiarlo e non non so come descrivervi nel locale però c'è il locale da fuori non sembra il locale e c'è questa porta queste due porte dove che dividono l'ingresso del locale a questa sorta di locale non locale ok lo sono spiegata ed è buio due porte e due porte e lui l'ha iniziato ad alzare le mani a Daniele all'inizio Daniele cercava di non reagire perché comunque all'interno del locale non è che ti puoi mettere a fare a bossa quindi cercava di trattenere e si è preso diciamo un po di mazzate cercando di buttarlo fuori però diciamo che la cosa un po degenerata quindi è tornato a casa con questa faccia questa testa aperta qua una cosa enorme e per sicurezza ovviamente è andato al pronto soccorso vedere se era un trauma cranico eccetera eccetera e poi è andato a fare la denuncia ai carabinieri per questa persona il problema è che non sapendo il nome di questa persona il problema che abbiamo riscontrato è che la persona con cui era questa persona ok non ci ha voluto dire il suo nome diceva di non conoscerlo ovviamente non era così e quindi non sapeva cioè la denuncia è stata fatta dicendo appunto che c'erano questa persona che non ha voluto dire il nome ok quindi abbiamo lasciato il suo nome eccetera eccetera ma è comunque stata fatta verso ignoti sono passati un po di mesi non so se avevano chiamato qualcuno per Daniele aveva lasciato ovviamente i nomi dei testimoni che c'erano ha lasciato appunto il nome di questa persona che diceva di essere un avvocato e quindi gli avrebbe lasciato il suo contatto e tutto il resto ma non conosceva la persona con cui è andato fuori a bere non lo so sembra un caso di Elisa True Crime nella serie che non combaciano le cose fatto sta che hanno cercato di provare a capire chi fosse questa persona ma poi abbiamo capito che era ritornato nel suo paese non era italiano era diciamo un turista diciamo così era in viaggio quindi anche lì non si è fatto niente la cosa che mi ha fatto più ridere in realtà di tutta questa storia è che vabbè Daniele aveva fatto la denuncia per una questione di qualcosa visto che era sul lavoro per evitare visto che la faccia era bella che rovinata se fosse successo comunque qualcosa in particolare era giusto fare la denuncia ma quando è andata a fare la denuncia ha spiegato ovviamente come veniva gestito il locale e che tipo di locale fosse e il carabiniere ha voluto il numero di Daniele cioè l'ha chiamato proprio la sera stessa chiedendo se poteva andare al locale perché era uno dei locali che avrebbe voluto visitare e quindi niente cioè alla fine il carabiniere alla fine è andato alla sera stessa con la ragazza credo e poi gli aveva mandato un messaggio a Daniele dicendo appunto che se l'ha trovato bene che gli era piaciuto il locale quindi fantastica questa cosa e mi sa che forse ci è ritornato anche dopo qualche mese vabbè poi Daniele quest'estate poi ha finito di lavorare in questo locale adesso lavora in un altro quindi dovrebbe essere anche lì un posto sicuro ma in realtà anche appunto al 1930 non doveva succedere una cosa cioè difficilmente succede una cosa del genere ed è successo a Daniele vabbè comunque mi fa ridere perché quando è arrivata la raccomandata pensavo avesse preso una multa anzi avesse preso la multa con la mia macchina perché io ogni volta lo cazzo sempre lui usa la moto e quando ho detto Daniele Celli ho guardato il tipo e gli faccio perché guarda che ci avevo messo un po' e gli faccio ma secondo te quando è così è una multa? mi fa e beh un po' mi sembra di sì apro e leggo della convocazione del ministero e ho detto che cazzo ha fatto Daniele? poi vabbè ho letto appunto che si trattava del fatto della denuncia che aveva fatto lui e quindi mi sono un po' tranquillizzata ecco ma più che altro perché pensavo l'avessero convocato per parlare ancora in tribunale per un caso che invece aveva visto da testimone per un suo amico che veniva solcherizzato diciamo e quindi quel giorno era da testimone e l'altra volta gli avevano chiesto appunto di di rispondere a delle domande di andare a testimoniare e pensavo fosse quello poi quindi ho fatto un mix di cose vabbè adesso sento mia mamma per capire che cosa dov'è ma mi sa che oggi pomeriggio lei doveva andare a bere il caffè con una collega quindi sono proprio piantata a casa e fuori c'è ovviamente un tempo del cavolo perché piove tutto grigio e non so che cosa fare io cosa posso fare per passare il tempo giuro ragazze non mi passa più il tempo non mi passa proprio più il tempo però qualche cosa dovrò pure fare giusto? adesso mi invento qualcosa io sto finendo di cucire questo qui che non l'avevo neanche più finito nel frattempo ovviamente indovinate un po' di Lisa True Crime ma ciao amore ciao ti sono mancata? eh? ti sono mancata? no che ne fatti? si quelle sono le mie ciabatte buonasera allora appena tornata a casa ho mangiato a casa di mia mamma il trucco mi è abbastanza durato a parte che vedete questa macchia qua non ho capito perché ho questa macchia sul viso non si capisce e vabbè della telecamera sembra molto di più forse se mi avvicino ok dunque il trucco mi è abbastanza durato pur appoggiandomi sul divano queste cose così e ho mangiato a casa sua perché appunto come dicevo è uscita quindi sono andata un po' da lei proprio per stare in compagnia e adesso sono le 9 e mi sento piena come un uovo pur non aver mangiato granché mi sono anche sporcata infatti la darò a mia madre perché mi ha fatto pasta in bianco e... nello schizzarmi credo sia... l'olietto vabbè ottimo la ride qui che sta facendo la pappa quanta te ne manca non ha mangiato niente cioè se io non sto a casa questa non mangia lei mangia solo quando io vado in bagno capiamo perché mi do una sciacquata e mi preparo per andare a dormire perché sono cotta domani mattina mi vedo con una mia amica che viene praticamente sotto casa a fare colazione andiamo a fare colazione in un bar qua sotto che... perché almeno mi evito di farmi la camminata anche perché il bar dove andavamo sempre verso casa sua hanno chiuso quindi non so perché ma hanno chiuso e quindi come alternativa solitamente è più verso il centro ma... sono almeno una mezz'oretta a piedi e non so se me la sento ecco no no io c'ho la sciatone per qualsiasi cosa ho tutto il cibo sullo stomaco cioè mi sento proprio pesante quindi io vado a letto e ci vediamo domani con un prossimo vlog e spero che vi abbia fatto piacere il fatto di farvi vedere il carire intanto in bagno giustamente spero vi abbia fatto piacere appunto vedere un make up così un po' veloce io spartana non sono più capace a truccarmi però almeno per provare i produttini almeno ve li ho mostrati sinceramente mia mamma ha detto che le piace un sacco questa palette non rende in realtà adesso ma è tanto luminoso quindi in realtà è molto più carino dal vivo che in videocamera quindi super approvato un bacione e ci vediamo con il prossimo video ciao 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 ciao